La Udine è la sedicesima tappa di quest'opera itinerante che si intitola Anything to say ed è un monumento alla libertà di espressione e di informazione che è ciò che ci consente di sviluppare un senso critico nel senso che se abbiamo una stampa informata possiamo capire da che parte del mondo stare. L'opera si presenta come un monumento classico a tutti gli effetti solo che a differenza dei monumenti che troviamo in tutte le piazze che sono posti su un primistallo, questo è il livello terra e si muove e va a cercare le persone. Le persone hanno la possibilità di salire in piedi su questa sedia per cambiare il loro punto di vista in qualche modo e prendere una posizione rispetto al mondo. Le tre figure raffigurate sulle sedi sono Julian Assange, Edward Snowden e Chelsea Manning che attraverso la piattaforma di Wikix hanno rivelato al mondo intero crimini di guerra e non solo commessi dai governi più potenti al mondo e per questo stanno pagando un prezzo altissimo. Quindi l'opera si fa portavoce di questo messaggio e continua il suo inarrestabile viaggio.